Grazie Presidente. Vede, signor Ministro, le do due brutte notizie. Uno, che la ricerca del punto di equilibrio di cui lei parla purtroppo non ci è mai arrivato e i fatti di questi giorni, ma non solo di questi giorni, di questi mesi, di questi anni in cui lei è stato Ministro dell'Interno sono lì a dimostrarlo, perché non si è arrivati minimamente a trovare una gestione come lei auspicava condivisa e soprattutto non si è arrivati a dare un segnale di legittimità a quello che è la gestione di un flusso che non può essere chiamato semplicemente di richiedenti a misilo, ma di fatto di un flusso di un'invasione sistematica programmata di quelle che sono le nostre terre ed in generale dell'Europa. Tralasciando la questione dell'Europa, a me fa piacere che lei citi dei modelli di riferimento come dei medici che si spendono volontariamente per assistere persone, mi auguro non solo immigrati ma anche cittadini italiani, perché quello che è la percezione di tanti cittadini italiani che voi vi occupate, forse anche per interessi economici, non suoi, non del governo in maniera specifica, ma da chi lucra su queste cose qui, degli immigrati e tralasciate totalmente invece quelli che sono gli interessi legittimi degli italiani. E anche la questione, ripeto, dell'escalation, di arrivare a fare degli espropri di parti private, solo ed esclusivamente perché, lei ha detto, sembra quasi una minaccia, se non collaborano espropriamo. Beh, ci sono più di 500 comuni su 8 mila, più di 500 comuni su 8 mila in questo Paese che vi hanno in qualche modo risposto. Iniziate ad utilizzare quelli senza andare cortesemente a rompere le scatole a cittadini onesti come quelli di Gorino. Grazie.